In questo video lezione presentiamo l'attività di controllo e validazione dei calcoli e risultati nello svolgimento di un quesito di matematica o di fisica, in questo caso parliamo di fisica, adoperando una calcolatrice scientifica no CAS, modello in questo caso caso FxC G50. È interessante vedere praticamente come durante lo svolgimento del quesito del problema l'utilizzo della calcolatrice consente di controllare i dati, di validarli e quindi di avere una garanzia che lo svolgimento dei calcoli, diciamo, prosegue in modo corretto. Qui abbiamo un quesito di fisica, lo leggiamo, dice che una particella alfa entra con velocità iniziale dentro queste armature, tra le armature di un condensatore piano, ci vengono date la città la lunghezza della piastra, la distanza tra le piastre e soprattutto all'ensia di carica superficiale, da una piastra negativa all'altra positiva. La particella alfa entra con una velocità di 1,20 per 10 alla 5 media al secondo. Vengono poste delle domande al problema e chiaramente noi, al di là dello svolgimento, che comunque viene presentato, ci concentreremo sulla modalità di utilizzo della calcolatrice, in questo caso, per le attività che abbiamo detto di controllo e validazione che supportano lo svolgimento del quesito. Dal punto di vista qualitativo, il problema si può svolgere pensando che la particella alfa entra in un campo elettrico uniforme, che è diretto dal basso verso l'alto, perché in basso abbiamo una distribuzione uniforme di cariche positive, in alto una distribuzione uniforme di cariche negative. Quindi un moto bidimensionale, in senso orizzontale, retti uniformi, in senso verticale, uniformemente accelerato. Ricordiamo che verticalmente è soggetto a una forza elettrica pari a Q per E, e quindi possiamo calcolare un'accelerazione costante che dà luogo un moto rettilineo uniformemente accelerato. Quindi in basso abbiamo la composizione dei moti, in verticale e orizzontale, teniamo conto che la particella percorre fondamentalmente tutta la piastra per una lunghezza di 10 cm, quindi durante questo moto la particella percorrerà una traiettoria che vedremo essere parabolica. Quindi partirà da questo punto centrale, io ho messo un sistema di riferimento XY, chiaramente dall'origine si muoverà con velocità costante, orizzontalmente però ci sarà anche la componente diciamo verticale, perché abbiamo detto che verticalmente è soggetta a una forza elettrica F uguale a Q per E. Quindi l'esercizio si svolge sviluppando i vari punti e vediamo in quali fasi può l'alunno utilizzare questa alcolatrice in questo esercizio per fare una operazione di controllo e validazione risultati. Chiaramente io qui seleziono il menu 5, la funzione graph che mi consente di rappresentare dei grafici e non solo. In questo caso io ho rappresentato per esempio il moto della particella lungo la direzione X e lungo la direzione Y con due colori diversi e li possiamo vedere, una è una legge parabolica, l'altra è una funzione lineare. Ricordiamo che per la calcolatrice la T, la variabile tempo, è rappresentata dalla variabile X con la condizione che T è maggiore di 0 uguale a 0 e naturalmente la nostra X, la nostra Y rappresenta la ordinata nella calcolatrice, quindi bisogna stare attenti al nome delle variabili, però diciamo la visualizzazione dei grafici consente in questo caso di interpretare naturalmente, ricordiamo non la traiettoria perché questa non è una traiettoria ma bensì la legge oraria lungo la direzione orizzontale lungo la direzione verticale, quindi una legge oraria diciamo di tipo parabolico e una legge oraria tipo lineare. Ricordiamo che dalla legge oraria l'alunno applicando il concetto di derivata prima e derivata seconda può anche trarre informazioni relative alla velocità e anche all'accelerazione istante per istante, in modo particolare teniamo conto che la particella si muove in un condensatore di lunghezza, abbiamo detto essere di, vediamo un pochino che abbiamo posto all'inizio, quindi la lunghezza è di 10 cm, quindi la distanza tra le armature è 2 cm, lunghezza 10 cm. Quindi stavamo dicendo che qui rappresentiamo, semmai ecco, una legge oraria lungo l'asse delle ascisse, lungo l'asse delle ordinate che diciamo vale all'interno del condensatore perché praticamente all'interno del condensatore è presente il campo elettrico, quindi diciamo che c'è una limitazione di t, t deve essere compreso tra 0 e il tempo limite che la particella impiega per percorrere la distanza in lunghezza del condensatore di 10 cm. Ricordiamo che 10 cm corrisponde naturalmente alla lunghezza del condensatore e quindi ci sarà questo tempo limite, è una condizione se vogliamo chiamarla di realtà perché va analizzato in quell'intervallo di tempo il moto all'interno del condensatore, quindi questo grafico deve avere la limitazione tra 0 e il tempo finale, dopodiché diciamo che corrisponde appunto all'uscita dal condensatore. Ecco qui per esempio io ho riportato sempre adoperando la quadratrice la derivata della legge oraria lungo la direzione verticale, perché? Perché sappiamo che la direzione verticale è la particella e soggetta a una forza elettrostatica e questa forza elettrostatica dà un'accelerazione, quindi si ha una velocità che varia in quella direzione, abbiamo una variazione di velocità, la derivata prima sappiamo che rappresenta la velocità, in questo caso all'istante tx ricordiamo che rappresenta la variabile tempo e quindi istante per istante noi siamo in grado di valutare con l'operazione derivata, per esempio, la velocità che la particella alfa ha verticalmente istante per istante all'interno del condensatore, riferita a questa derivata naturalmente alla legge oraria nella direzione verticale, perché nella direzione orizzontale sappiamo che essa si muove a velocità costante. Quindi qui riporto per esempio un'altra finestra della calcolatrice in cui sono stati calcolati, selezionando la matrix calcolo e derivata prima e seconda, la velocità con l'operazione derivata prima, ho derivato sempre la legge oraria nella direzione verticale, x ricordiamo che rappresenta la variabile tempo e ho ricavato che la velocità nella direzione y al tempo t, il tempo t che riporto 8,33 per 10 alla meno 7 secondi rappresenta proprio il tempo in cui la particella fuoriesce dal condensatore, quindi quella è la velocità che ha la particella nel momento in cui esce dal condensatore, dovrì che si trova diciamo nello spazio senza campo elettrico, mentre 2,6 per 10 alla 10 rappresenta quella che noi avevamo calcolato durante lo svolgimento dell'esercizio, l'accelerazione a cui è soggetta la particella verticalmente, qui abbiamo un'operazione di controllo e di validazione dei risultati perché non solo controlliamo dalla derivata seconda di questa funzione fatta con la calcolatrice naturalmente la correttezza del dato, ma riusciamo anche a seguire molto bene naturalmente il problema e quindi diciamo ecco l'utilizzo in questo caso consente di riuscire diciamo ad avere un quadro globale sotto controllo del svolgimento del quesito, fine della video lezione grazie a tutti grazie a tutti